È importante che il paziente segua ciò che gli indichiamo di fare, i compiti che gli diamo, solo che a volte non lo fa. Nei due video precedenti ho spiegato che a volte serve dare un fondamento logico al perché gli stai chiedendo certe cose, oppure utilizzare un linguaggio suggestivo. Ma oggi ti do tre linee guida per capire quali compiti è meglio dare. Ci sono infatti delle situazioni, delle caratteristiche che ti aiutano a capire qual è la tipologia di compiti migliore per la persona che hai di fronte. Se comprendi qual è la tipologia più adatta è più facile che lui lo esegua. Per capirlo non devi far altro che comprendere in quale stadio del cambiamento la persona si trova o che tipo di relazione terapeutica si è instaurata tra voi. Quando parlo di stadio del cambiamento faccio riferimento alla teoria degli stadi del cambiamento di Prociasca e di Clemente. Quando parlo di relazione terapeutica faccio riferimento alle tre tipologie di relazione della terapia centrata sulla soluzione. Ne ho parlato in altri video quindi te li puoi andare a cercare, ma qui le rispiegherò sinteticamente per praticità e per aiutarti a capire cosa devi fare. La prima tipologia di compiti è per quei pazienti che si trovano nella relazione di visitatore o nello stadio del cambiamento della precontemplazione. Secondo Prociasca e di Clemente le persone nello stadio della precontemplazione semplicemente non pensano di avere un problema. Questo stadio del cambiamento è proprio sovrapponibile alla relazione terapeutica detta di visitatore della terapia breve centrata sulla soluzione, che è quella in cui ti trovi di fronte una persona che appunto non ritiene di avere un problema. Potrebbe essere per esempio una persona con un problema egosintonico, o un adolescente inviato dai genitori, o una persona inviata da un giudice, o una coppia dove uno dei due partner però è in disaccordo sull'utilità della terapia o sul fatto che abbiano un problema che va risolto con la terapia, o sul fatto che abbiano un problema. Cosa devi fare in questo caso? Bene, in questo caso non devi dare un compito sul problema specifico. Se ci pensi sarebbe assurdo chiedere di fare un compito per risolvere un problema che una persona non ritiene di avere. Cosa puoi fare allora in questo caso? Beh, almeno tre cose. La prima è appellarti alla tua autorevolezza. Fidati di me, sono uno psicologo, la vedi la laurea appesa al muro? Facciamo una prova. La seconda è quella di essere suggestivo, persuasivo, cercando di bypassare la resistenza della persona. Le due cose che ho appena descritto possono essere anche utilizzate, possono essere utili e possono anche funzionare, però ne capisci anche tu il limite. Non dovresti a priori trattare le persone come stupide o indottrinabili, a parte che è deontologicamente discutibile, ma poi potrebbe anche essere controproducente. Puoi invece andare a cercare un obiettivo saliente per quella specifica persona e lì dare un compito. Capisco, in effetti da quanto dici, questo non mi sembra essere un problema per te. Ma dato che sei qui, c'è qualcosa per cui pensi che la psicoterapia possa esserti di aiuto? Una persona con anoressia magari vorrebbe lavorare sulla paura di poter perdere il controllo. Un uomo inviato al giudice potrebbe pensare che la sentenza è ingiusta, ma potrebbe volersi tenere stretti i figli. Un adolescente potrebbe pensare che il problema è degli insegnanti, ma apprendere come comunicare in modo strategico con gli insegnanti potrebbe essere d'aiuto. E se non lo trovi, se la persona non vuole stare lì, non insistere. C'è sempre la possibilità che in quel momento la persona non veda l'aiuto o magari sia oppositiva perché si sente costretta a venire da te. Ma se il tuo atteggiamento è di apertura e di porta aperta per il futuro, potresti aver instaurato una buona relazione terapeutica affinché lei torni poi con un suo obiettivo successivamente. Ci sono poi pazienti che instaurano una relazione da lamentatori, complainer, o che sono nella fase di contemplazione. La persona vede un problema, lo identifica, dice che c'è, ma pensa che non si può fare nulla per risolverlo, oppure pensa che lei non può fare nulla per risolverlo, o ha un atteggiamento ambivalente, la soluzione arriverà, devo solo aspettare, pensarci e ripensarci. In questo caso la tipologia di compiti che puoi dare sono dei compiti di osservazione e riflessione. Se la persona pensa che nulla si può fare, il tuo compito non deve squalificare questa credenza e dire alla persona, dai che ce la fai alla Gianni Morandi, non è necessariamente la soluzione migliore. Certo, potessi provare veramente a forzare leggermente la mano, a proporre un po' di più con l'autorevolezza e con la suggestione, che qui sono sicuramente più praticabili, ma se non funziona, limitati a dare dei compiti di osservazione e riflessione. Il Noticing. Da qui alla prossima volta nota tutte le cose che ti faranno dire che stanno avvenendo dei cambiamenti positivi, o che stai salendo di un pizzichino nella scala, cose che fai o cose che avverranno spontaneamente. La Formula First Session Task, il compito invariante della prima seduta. Da qui alla prossima volta in cui ci vedremo, nota tutte le cose che stanno funzionando già per te, anche quelle minimali, me le porti la prossima volta e ci ragioniamo insieme. O il Notare le eccezioni positive. Da qui alla prossima volta nota tutte le volte in cui il problema non si presenta, o in cui si presenta con minor frequenza o minore intensità e chiediti perché, cerca di farti un'idea su che cosa c'è di diverso e poi ne parliamo in seduta. E infine ci sono le persone che instaurano una relazione di tipo customer, cliente o acquirente e che sono nella fase di azione. Sono persone che identificano un problema e che pensano che possa essere fatto qualcosa e che devono farla loro. E qui, molto facilmente, puoi dare i compiti che conosci e che ritieni più adatti. Ricordati però quanto ho detto nei due video precedenti. Dai un rational, un fondamento logico, perché i compiti devono essere dotati di senso per la persona, e o usa un linguaggio suggestivo, perché la persona non deve usare troppa razionalità per eseguire il compito. Saper dare un compito non è un processo automatico per un terapeuta, ma spero che con questi tre video io ti abbia dato qualche idea in più per riuscire a prescriverli. Vedi tu, se pensi di poter fare da subito qualcosa, inizi a osservare in che fasi si trovano i tuoi clienti e che tipo di relazioni si stabiliscono con loro e agisci di conseguenza. Se non ti senti in grado di poter fare qualcosa, o se non pensi che qualcosa possa essere fatto, limitati a osservare quello che succede in terapia e in particolare quello che succede di buono. E riflettici su.